Noi siamo qui in cerca di un autore, di un autore? Che autore? Di uno qualunque signore. L'ha quella madre con il figlio, poi ci sono io con quella bambina, poi c'è quel ragazzo là sempre solo, poi ci sono io con lui e poi, poi ci sono io da sola, io da sola, io quello. Ciascuna di noi si crede uno, ma non è vero. E tanti, signora, tanti. E che ne sai tu come sono? Quando mai ti sei curato di vero? Ma adesso vuole vedere davvero il dramma? Scoppiare davvero così? Ma io non chiedo di meglio per prenderne fin d'ora quanto sarà possibile. Il dramma siamo noi, è in noi, capisce? E siamo impazienti di rappresentarlo. Ma non è già tutto avvenuto, io non capisco. No! Avviene ora, avviene sempre. Io non mi presto! Non mi presto! E interpreto così la volontà di chi non volle portarci sulla scena. Ma guardate che ci vuole una bella faccia tosta. Uno che si spaccia per personaggio, venire a domandare. Ancini, su! Oh, un personaggio, signore. Può sempre chiedere a un uomo chi è. È tutto quanto finto qui. Questa è realtà. Stiamo a vedere che cosa ne nasce. Questa è un uomo chi è.